Dimostrazione di Perigan sul teorema di Pitagora L'area di questo quadrato e l'area di questo quadrato equivalgono all'area del quadrato grande Adesso vediamo come ci stanno E così dimostriamo che le aree dei due quadrati piccoli equivalgono all'area del quadrato grande Con questo puzzle dimostriamo che l'area del quadrato costruito sul cateto maggiore e quello costruito sul cateto minore equivalgono all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa Cioè dimostriamo il teorema di Pitagora